una nuova casa nel cuore di Milano in via Manzoni, fiori e un colore il tangerine il più vitaminico e vivace che ci sia per raccontare tutta l'emozione, l'energia che un gioiello può regalare. Dodo, il marchio di gioielleria, giovane green nato nel 1994 con il simbolo inconfondibile del volatile delle Mauritius, oggi estinto e ricreato nel prezioso ciondolo da un grammo d'oro, inaugura la sua nuova House of Dodo. Due piani, un'atmosfera luminosa e accogliente dove condividere ed esprimere insieme alle emozioni la propria e più autentica personalità. Dodo merita una casa alla sua altezza, cioè un gioiello molto prezioso, molto milanese, vicino alla natura, vicino ai giovani, vicino al colore, ed è questo che abbiamo voluto trasmettere in questa nuova casa d'oro. Un'apertura celebrata in musica e allegria e condivisa con i tanti amici del brand, stampa, celebrità influencer e i protagonisti della nuova campagna, l'imprenditrice Alice Campello, l'attore Giacomo Giorgio, la ballerina e modella Michela Neze Silva e l'attrice Alice Maselli. È un po' come il sinonimo di WWF. La cosa che amo di più di questi gioielli sono la loro Mission Green. Rappresenta assolutamente la positività, la freschezza. Ricordo che uno dei primi lavori che avevo fatto al cinema che fu The Happy Prince di Rupert Everett, avevo 17 anni, i primi di sparmi mi sono comprato un braccialetto. Per me è un messaggio d'amore, un anello per esempio, un messaggio d'amore ed è una cosa che rimane per sempre. Gran finale di serata in musica e allegria per condividere messaggi ed emozioni che un gioiello sa di poter regalare. Ancora oggi veramente Dodo parla di generosità, di amicizia, di amore, di natura, di rispetto del mondo nel quale viviamo, del nostro pianeta e ne siamo molto orgogliosi. Grazie a tutti.